Non edizione per Art & Shock, la manifestazione dedicata a tutti i golosi torna nella piazza di Ravenna. Ravenna ormai è affezionata a voi, portate dolcesa nel cuore della città, dolcesa di qualità. Sì, siamo affezionati a Ravenna, la città a noi ma a noi soprattutto a Ravenna e ai ravennati. Siamo qui per la nonna edizione e siamo felicissimi, poi guardate anche il tempo, ieri sembrava dovesse piovere un po' di più, invece finalmente esce il sole, è una delle tappe più importanti dell'intero nostro tour e quindi iniziamo bene. Vediamo che come sempre aumenta la qualità, la scelta dei vostri espositori, insomma delle persone che sono presenti qui, non è assolutamente casuale. No, beh, la volontà di Art & Shock è quella di migliorarsi anno dopo anno e quindi cerchiamo di trovare gli espositori che rappresentano l'Italia e i migliori che sono in giro, che fanno la promozione del cioccolato artigianale. Negli ultimi due o tre anni abbiamo avuto davvero l'eccellenza, quest'anno abbiamo aggiunto un cioccolatiere di Reggio Calabria, un cioccolatiere di Cuneo, un cioccolatiere di Pavia che tra l'altro è anche il collaboratore della Balivo Sudetto e Fatto e quindi direi che ci siamo davvero con l'eccellenza. Poi si sente il profumo, passavo prima per la fabbrica del cioccolato, c'è un profumo di cioccolato eccezionale. E poi per la privacy non abbiamo potuto ovviamente riprendere i bimbi, ma abbiamo visto dai bimbi agli anziani veramente con la colina in bocca. Beh, Ravenna fin dall'inizio le scuole hanno risposto in maniera molto importante, quest'anno ancora di più perché la fabbrica del cioccolato è stata una grande attrazione anche per loro, sono arrivati tanti, poi per me è una felicità perché sono nonno da pochi anni e quindi vedere tutti questi bimbi mi rallegra molto. Ultima cosa, diceva nonno anno, ci avviciniamo al decimo che celebrerete in qualche modo una bella festa. Beh, allora vi anticipo, ieri abbiamo avuto una riunione piuttosto lunga, stiamo preparando il 2017, quindi il decimo anno, con una novità importantissima. Ovviamente non vi possiamo anticipare nulla, però sarà veramente qualcosa che porterà Ravenna, l'Emilia Romagna e anche l'Italia per quella occasione davvero a essere conosciuta. Vediamo alle sue spalle Fossano Cuneo, quindi arrivate da Cuneo, quali sono le vostre eccellenze? Cosa avete portato qui a Ravenna da fare conoscere i Ravennati e a coloro che arrivano appunto qui in piazza? Abbiamo portato la nostra nocciola che è la tipica nocciola piemontese della Langa e in cui noi puntiamo tantissimo su questo prodotto, quindi la facciamo in più maniera con il cioccolato fondente e latte bianco, cercando di lavorandola sempre al naturale, quindi cercando di mettere meno ingredienti possibili che il gusto della nocciola risalta più sul cioccolato. Abbiamo una selezione ampia che varia dal cioccolato fondente bianco e latte e viene lavorato in più modi, quindi viene prima tostato oppure lasciato così in naturale. Un altro prodotto tipico della nostra zona che sono i cioccolatini al Rum, conosciuti da Comecunese al Rum, in cui abbiamo una selezione di 17 gusti diversi per accontentare una clientela più ampia, quindi variamo dal liquore, senza liquore, con il Rum e tutti i liquori digestivi più usati in Italia, quindi dal Mirto, dallo Sherry, dal Limoncello, cercando sempre di accontentare anche magari i bambini, quindi pistacchio, nocciola, marron glasse, gianduia, cremino. Da dove arrivate? Quali specialità avete portato in questa assolata piazza di Ravenna? Noi veniamo dalla Calabria e abbiamo portato la nostra particolarità e specialità, il torrone, il torrone al bergamotto, il bergamotto ci rappresenta in assoluto come grume tipico calabrese. E a chi piace particolarmente? Quando avete visto in giro nelle piazze, chi apprezzà particolarmente questo prodotto? I bambini, gli adulti, tutti? Guardi, abbraccia un pubblico, tutti diciamo, però l'adulto apprezza molto di più, perché conosce la provenienza e conosce la tipologia dell'agrume particolare, perché è simile al limone, tra un limone e un arancio, c'è quel gusto particolare. Come è nata la sua passione per il cioccolato? Io ci sono nata dentro il cioccolato, perché siamo di famiglia, portiamo un po' avanti questa tradizione, migliorando, portando la tradizione, però migliorandoci come è giusto che sia il cioccolato, perché poi il bello dell'artigiano è quello, che si cambia volta per volta, anche fiera per fiera. Noi riusciamo a cambiare il banco fiera per fiera, perché miglioriamo e arricchiamo i nostri prodotti. Vediamo alle sue spalle delle chips, chips però originali, queste patatine sono di cioccolato, pare. Esatto, ecco, queste sono il nostro prodotto di punta e niente, l'abbiamo imparato ad un corso, solo che l'abbiamo un po' modificato e l'abbiamo fatto con cioccolato al latte, bianco e fondente, con i vari aromi, con le varie granelle e si può degustare così a passeggio, a casa, oppure anche come decorazione di torte, decorazione per i gelati, il posto del biscotto. Ecco, abbiamo voluto appunto fare qualcosa di particolare che non avesse nessuno, infatti queste le abbiamo solo noi. Ma è difficile farle oppure sono facili? No, è difficile, nel senso che facciamo tutto a mano, siamo in quattro ragazze ed è una cosa molto sbrigativa, nel senso dobbiamo essere veloci, è un bel lavoro comunque. Però è un'ottima risposta, immagino che dai bimbi, quando vi vedono, siano curiosi di assaggiare ovviamente. Sì, i bambini soprattutto sono entrati da quelle con gli Smarties, oppure quelle con, poi cosa c'è, la granella di meringa, e poi abbiamo fatto una cosa nuova, il prodotto con il sale affumicato, e ecco, poi cerchiamo anche lì di fare sempre gusti nuovi. Ovviamente vediamo tante belle gollosità, però ci ha colpito particolarmente questo salame, salame fatto come? Salame di cioccolato, è molto particolare, senza uova, senza burro e senza biscotti, all'interno abbiamo delle nocciole tostate piemontesi, della farina di nocciola, pasta di nocciola e cioccolato fondente. È molto buono, si conserva fuori dal frigorifero, vi aspettiamo per farvelo assaggiare. Di fianco a questo salame invece vediamo anche un'altra particolarità, dei cubi colorati. Sono dei cubi colorati, che sono dei cioccolatini ripieni, con queste creme interne, che vengono chiamate ganache, che è panna, cioccolato, purea di frutta fresca, pasta di frutta secca, oppure liquore tipo il Belis, tipo il Rum, e facciamo delle confezioni, che potete scegliere i vostri cubi, sono 19 gusti, quindi vi aspettiamo pure per i cubi. Quali soddisfazioni dà il tuo mestiere, la tua professione? Vedere il cliente che assaggia il prodotto e dice, oltre ad essere bello e buono. In mezzo a questa dolcezza, anche un po' di Sicilia è sbarcata a Ravenna. Da dove arrivate? Che cosa avete portato qui in città? Sì, salve, buongiorno a tutti. Noi arriviamo dalla provincia di Agrigento, di preciso Canicattì, e abbiamo portato i prodotti tipici siciliani, ovvero i cannoli, la pasta di mandorle, e anche un nuovo prodotto di quest'anno, che sarebbe la cioccolata di Modica. Non conosciuta da tutti, però molto particolare, nel senso che è una cioccolata non lavorata, grezza, lasciata grezza. E poi i soliti prodotti conosciuti da tutti, zibibbo, panetto di mandorle, pasta di mandorle, marzapane, e i cannoli ovviamente, intramontabili. Com'è lavorare col dolce, con i dolci? Bellissimo, per chi piacciono e per chi anche non piacciono, insomma, un assaggino lo fa sempre, sì, molto bello, io mi trovo bene. Chi sono i più golosi, che vengono da voi? I bimbi, gli adulti, gli anziani, chi è che preferisce le cose dolci? Tutti, dai più piccoli ai più grandi, il dolce non tramonta mai. In Piazza Ravenna ho una vera e propria fabbrica, ma una fabbrica di cioccolato. Sì, una fabbrica del cioccolato, in miniatura, ma una fabbrica di cioccolato. Quali sono i procedimenti essenziali? Praticamente qua facciamo la pulizia delle fave, la selezione delle fave, la spaccatura per dividere la buccia dalla granella, la macinatura per creare il burro di cacao e il cacao, tutte queste cose qua, e poi la concatura con dei piccoli macchinari e la temperatura, la temperatrice, che è una macchina che mantiene il cioccolato sempre alla stessa temperatura, secondo il cioccolato che lavoriamo. Questa è tutta la fase, dalla fava alla barretta, infatti, bin to bar, dalla fava alla barretta. Quali sono le migliori qualità di cioccolato, partendo da quali migliori ingredienti? Beh, l'ingrediente uno è la fava del cioccolato, perciò il migliore è quello, ci sono parecchie qualità di cacao, di fava e di cacao. La migliore in assoluto dicono che è il criollo, che è una particolarità, però le fave arrivano da tutto il mondo, tutta la fascia equatoriale, come il caffè, insomma, tutta la parte più calda del mondo, Venezuela, Costa Rica, Vietnam, Ghana, Africa, Sud America, insomma, tutta la parte più calda del mondo viene creato il frutto del cacao. Grazie.